Nel 2010 insieme alla Camera di Commercio, l'allora Presidente della Camera di Commercio, abbiamo attivato e sostenuto un numero verde anticrisi. Abbiamo visto centinaia, centinaia di imprenditori. Non sanno se potranno dare una continuità alla loro routine che era diventata una routine. No, tu avevi un posto di lavoro fisso, avevi una famiglia che gestiva in un certo modo, adesso non sai più quale sarà il futuro. Ordine degli psicologi e telefono amico firmano ora un'intesa di collaborazione. Servirà a tutti, anche a chi soffre per la crisi. Quando vi si riesce a far comprendere che l'azienda in tal un caso non può essere sostenibile nel suo proseguimento delle attività, si ritrovano altre soluzioni, delle persone che riformulano le attività.